Allora, abbiamo questa serie televisiva antologica che possiamo definire, penso, in un solo modo, cioè fantastica. Una serie televisiva che ha sconvolto il modo di fare le serie tv, che ha inciso sul concetto di tecnologia, di modernità, che ha proprio fatto cambiare punto di vista a moltissime persone. Sì, gli esperti, magari, gli addetti al settore già le sapevano certe cose, ma questa serie l'ha portata al pubblico, l'ha portata al mondo, ha portata all'attenzione di tutti quelli che sono i limiti della tecnologia, i paradossi, i pericoli. Questa serie è magnifica, una serie che ha devastato, è arrivata sul pianeta come uno tsunami e ha veramente coinvolto tutti. Questa serie si chiama Black Mirror, una serie del 2011, una serie meravigliosa. Da Black Mirror, dopo il successo incredibile di Black Mirror, sono nate altre serie, altre serie tra cui anche i seguiti di Black Mirror, quelli fatti da Netflix, che purtroppo non sono all'altezza degli originali, ma ci sono anche altre serie. Abbiamo, per esempio, Electric Dreams, che è un'altra serie antologica basata sui racconti di Philip K. Dick, e abbiamo altre serie, e tra queste ce n'è una che spicca. Questa serie si chiama Love, Death and Robot. È una serie del 2019 che è caratterizzata da un altissimo budget, uno studio incredibile sulle animazioni, un coinvolgimento di personaggi attori famosissimi, abbiamo David Fincher, Fincher è quello che ha fatto Alien 3, dimenticabile però, quello che ha fatto Seven. Poi abbiamo anche Tim Miller, Tim Miller è quello che ha fatto Deadpool. Insomma, abbiamo nomi veramente grossi, studi di animazione importantissimi sono stati coinvolti in tutto il mondo. Insomma, la cosa incredibile è che c'è stata una macchina produttiva e operativa dietro questo progetto enorme. E questi talenti, che risultato hanno dato? Che cosa abbiamo ottenuto da tutto questo impegno? Ma comunque, prima di continuare, qualunque sia la vostra opinione su Love, Death and Robot, se questo video vi è piaciuto, va fatto ridere, va fatto divertire, vi invito a mettere un like, possibilmente a condividerlo e aiutarci a far crescere il canale. In più vi invito a visitare il sito www.legagiochi.it, perché in questo periodo ci sono gli sconti di Natale e quindi magari vi beccate pure qualcosa di interessante. Sigla! Colgo l'occasione per parlare di questa cosa. Allora, siccome in precedenza ho fatto altri video dove ho parlato di fantascienza, ho criticato dei film di fantascienza proprio più o meno per gli stessi motivi, cioè il fatto che la trama non è solida, i personaggi sono stupidelli, le idee sono buttate lì così senza motivo, e poi mi sento rispondere cose tipo «Ah, ma tu pretendi troppo, è fantascienza, lo capisci che in fantascienza c'è la parola fanta?» Sì, c'è la parola fanta, che non è una bibita all'arancia e basta, ma c'è anche la parola scienza. E poi, se partiamo da questo presupposto che siccome è fantascienza va bene tutto, allora vuol dire che anche Vacanza su Marte, con Christian De Sica e Massimo Boldi, quella è fantascienza, Vacanze su Marte, più fantascienza di una vacanza su Marte, quindi va bene tutto. Il problema non è se è realistico, non è realistico, se è credibile, non è questo. L'opera mi deve prima di tutto intrattenere. Se io vedo una cosa che è stupida, se è fatta male, se c'ha delle belle idee, peggio ancora, c'ha delle belle idee, ma per pigrizia sono state sviluppate di merda, allora per me il film è una merda. E questo vale anche per ogni episodio di Love, Death and Robot. Oggi analizzeremo tutti gli episodi della prima stagione di Love, Death and Robot. Infatti andremo veloce perché sono 18 episodi, quindi non possiamo perdere mezz'ora per ogni episodio. Faremo una cosa molto stretta. Primo episodio, i tre robot. Sta cosa è veramente... Io ho cominciato prima puntata e ho detto partiamo malissimo. C'avete presente quei film dove a un certo punto, per capire che sta succedendo, arriva uno e ti fa lo spiegone? Quanto rompe le palle il tizio che fa lo spiegone? Quanto è fastidioso lo spiegone, ok? Ecco, questa prima puntata, i tre robot, è tutta la puntata uno spiegone. Tutta! Quanto è? 20 minuti di puntata? 20 minuti di spiegone, Dopodiché, alla fine, gli ultimi 5 secondi c'è una battuta. Ci sono questi tre robot che arrivano su sto mondo post-apocalittico dove la Terra è stata annientata, girano con l'umanità che è sparita, e quindi la cosa interessante è quella che tu ti chiedi anche ma come mai è sparita l'umanità? Come mai sono rimasti solo questi tre robot? Alla fine, che cosa è successo? Si scopre che i gatti hanno sviluppato il pollice opponibile e al momento in cui il gatto ha sviluppato il pollice opponibile l'uomo non è stato più necessario e quindi hanno sterminato gli uomini. Ah ah, che bello, guarda! 20 minuti della mia vita a vedere sta cosa per poi ascoltare una cosa che poteva essere fatta in una barzelletta di 10 secondi. Veramente, c'è uno spiegone di 20 minuti e poi una battuta. Fine dell'episodio. Questo è il primo... Devo stare calmo, io già cominciamo male. Vabbè, comunque andiamo avanti. Secondo episodio. E qui andiamo velocissimo, perché, in sostanza, stringendo, 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 l'idea originalissima alle spalle di questo episodio è era tutto un sogno. Ed è praticamente in sostanza che lui è in coma e siccome è in un posto orribile una creatura buona ma delle fattezze orribili, orripilanti lo tiene in vita sospesa e lo fa vivere in una realtà alternativa. Che storia originale! Chi l'ha visto mai? Matrix, Apres lo Hocus, Silver Sky, quello con Tom Cruise, Cameron Diaz. Ma che cosa originale! Guarda, ma chi se l'aspettava? È tutto in sogno. Ci saranno mille film dove a un certo punto si scopre che era tutto un sogno. Anche qui, pregente, non è un sogno, ma è una realtà simulata, ma pregente è la stessa cosa. Fa l'unica cosa degna di nota, ma anche lì fa schifo, sta cosa fa schifo. L'unica cosa degna di nota è che lui a un certo punto si rende conto che è una realtà simulata, chiede a questa creatura che lo tiene in vita di risvegliarlo, questa creatura che gli vuole bene perché questa creatura ha queste fattezze orribili, però ha l'animo buono, positivo, e gli dice guarda che se io ti risveglio tu stai male, io sono troppo orribile. Lui vuole vederla, vuole vedere, si sveglia, si rende conto che questa creatura è orribile e sviene di nuovo. E ricomincia tutta da capo, si risveglia di nuovo senza memoria e pregente in un loop infinito. Loop infinito, ricordatevi bene questa parola, perché ci torneremo dopo. Perché mi fa schifo sta cosa? Perché? Perché è body shaming. Ma davvero, io lo capisco, io lo capisco che tu puoi finire su un pianeta alieno, in mezzo a degli alieni orribili. Ma perché? Allora, come a me fa schifo quella creatura? In teoria, a quella creatura, faccio schifo pure io, però quella creatura mi ha salvato, mi ha curato, mi sta tenendo in uno stato mentale di serenità, in modo che io possa comunque sopravvivere, possa sentirmi a mio agio. E ogni volta che io dico no, perché ricomincia il loop infinito, ogni volta che io dico no, voglio capire la realtà, appena apro gli occhi e vedo che è brutta, e svengo. Ma che cazzo di esseri umani siamo? Ma porca miseria, ma veramente, noi esseri umani siamo talmente belli, talmente perfetti, che se c'è una cosa che fa veramente schifo, non potremmo mai abituarci a questa, mai, dovremmo sempre schifarci. Non la so, però questa puntata è una delle peggiori per me, guarda, è incredibile. Puntata successiva, l'era glaciale. Anche qui, idea originalissima, wow, guarda che sorpresa. Probabilmente la storia di questa coppia di sposini che apre il frigo e dentro ci trova una civiltà, nel freezer. ci trova una civiltà di uomini primitivi e ogni volta che apre il freezer questa civiltà è avanzata, quindi prima sono primitivi, poi sono al Medioevo, poi l'età industriale, poi l'età moderna, poi a un certo punto fanno la guerra nucleare, muoiono tutti e loro a un certo punto riaprono il frigo e vedono che invece sono di nuovo gli uomini primitivi. Lupo infinito anche lì. Ma, ma perché? Cioè, ma dov'è l'originalità di questa storia? Già si è vista, si è vista milioni di volte, si è vista nei Simpsons, l'ha fatta pure zero calcare dentro la sua lavatrice. Ora, non dico che questi hanno copiato da zero calcare, ma è per dire che è un'idea talmente stupidella, questa cosa di una microciviltà che nasce in un posto e si sviluppa, ma dai, l'abbiamo vista dieci volte. Ma anche lì non c'è nessun approfondimento, non si va in quello che provano questa copia. Cioè, immaginatevi di essere voi, ok? Facciamo che questa storia è vera, ma non sarà interessante raccontare la vita di sta coppia che trova una civiltà aliena nel proprio frigo, sapere che rapporto ci avrà con i telegiornali, con gli altri vicini di casa, non lo so, sarebbe stato anche interessante, però no, è più interessante il lupo infinito, quello, il lupo infinito, sempre. Episodio numero 4, il vantaggio di sonni, anche qui, che ideona, l'idea proprio stupidissima, di base, che poi potrebbe anche essere interessante, però buttata lì così, è ancora peggio. Andiamo un po' nello specifico. In questa storia si racconta di un pilota, di questi mostri, che viene corrotto, o quantomeno cercano di corromperlo per truccare l'incontro. Questo pilota si rifiuta di farlo, allora c'è tutta sta storia di questi che poi prendono e l'ammazzano, perché non ha rispettato gli accordi. Dopo che l'ammazzano, si scopre che in realtà, appunto, non era il pilota, in realtà era un fantoccio, era vuoto, ma la vera coscienza sta dentro il mostro, il mostro si vendica e ammazza a tutti. Questa bellissima, incredibile storia spreca un'occasione per raccontare di un mostro sensiente che per vivere in mezzo agli altri deve spacciarsi per simulacro di un umano, dove invece l'umano è finto ed è lui. Immaginatevi questa cosa, immaginatevi la proiettata, per esempio, in una situazione tipo Teheran, oggi, dove ci sono le donne che non hanno la libertà, perché in molti paesi musulmani le donne sono proprietà privata, quindi una donna deve sempre avere un accompagnatore, perché è come se tu mandi la macchina da sola al supermercato, non lo puoi fare, che mandi la macchina da sola, ci vuole uno che la guida. Le donne in questi posti sono così, sono come le macchine, ci vuole qualcuno, maschio, che le sta accanto. Ora, anche lì abbiamo un mostro che non può dire vabbè, ma io sono intelligente, mi metto giacca e cravatta e mi faccio la mia vita. Non lo può fare, ha bisogno di un simulacro che crei un'apparenza che le permetta di vivere, nonostante, siccome l'unico posto dove può fare questo sono i combattimenti clandestini fra mostri, per poter campare deve anche combattere. Ma pensate quante cose simpatiche che si potevano raccontare. No, non si racconta niente, e lui che aveva fatto la scommessa truccata non ha voluto rispettare la scommessa allora quelli ci vanno la minacciano dicono gli ammazzano però alla fine l'ammazzano e dopo che l'ammazzano si scopre invece che il mostro si insente e se li mangia. Wow, guarda che emotività che mi ha trasmesso sta cosa, che approfondimento, che concetti profondi, l'indipendenza, l'autonomia, il diverso, l'accettazione del diverso, il body shaming, tutte cose ignorate, zero, niente. Ma io perché mi incazzo queste cose? Puntata numero 5, il dominio degli yogurt. Questa è una delle cose più stupide che ho mai visto. Non tanto per l'idea, che anche l'idea è carina. L'idea che lo yogurt prende coscienza e comincia a dominare il mondo è bellissima, fa ridere, è la cosa che tutti si ricordano di questa puntata. Lo yogurt prende coscienza e domina il mondo. Il punto è sempre quello, dietro quest'idea cosa c'è? Cosa mi racconti? A me sta cosa mi fa proprio, scusate, ma mi fa schifo. Siccome c'è qualcuno che lo domina, lo yogurt, che viene riconosciuto come super uomo, ma vi rendete conto di quanto fascismo c'è dietro a sta cosa? C'è lo yogurt che siccome è più intelligente di tutti, è più buono, è fatto meglio, allora lui lascia tutti i poteri allo yogurt, ci comanda lui e poi quando lo yogurt si rompe il cazzo degli esseri umani, prende l'astronave e se ne va, gli umani restano così, allora che facciamo? Madonna mia, cioè proprio, guarda veramente, allora tanto male, allora ci riprendiamo, cloniamo Hitler, lo cloniamo e ci mettiamo Hitler lì, tanto lui lo sa cosa deve fare per noi, il super uomo, ma veramente, cioè ma davvero, ma davvero, ma davvero, e comunque anche lì poteva essere una storia interessante perché io posso anche sentire una storia che inneggia il fascismo e riconoscere delle qualità artistiche in quella cosa, mi dissocio dal messaggio, mi dissocio dalla situazione, ma almeno riconosco delle qualità artistiche, invece no, in questa storia non succede niente, cioè, è così, il mondo si trova in una certa situazione, arriva lo yogurt che migliora tutto, poi lo yogurt se ne va e il mondo è di nuovo nella stessa situazione di prima, non ha imparato niente, non è che dice lo yogurt che ci lascia un'eredità, abbiamo imparato qualcosa, abbiamo imparato a vivere diversamente, a vivere meglio, eleggiamo un nuovo dittatore, visto che quello è un modello, a quanto pare va benissimo, facciamo una selezione, cloniamo del nuovo yogurt, niente, niente, così come era la terra quando è nato lo yogurt, resta la terra quando lo yogurt se ne va solo, con la tristezza che si stava bene quando si stava peggio, incredibile, guarda, questa cosa veramente mi fa proprio schifo, comunque, episodio successivo, la guerra segreta, la guerra segreta è una storia inutile, è una storia inutile, durante la seconda guerra mondiale una truppa entra in una caverna, scopre che in questo posto è pieno di ghoul e allora loro combattono con questi ghoul, ghoul sarebbero dei demoni, diciamo, per chi non lo sa, dai, non sapete cosa sono i ghoul, per favore, comunque, fanno sta battaglia, si difendono, fanno un macello, e finalmente uno, mi pare di loro, soltanto si salva, avverte gli amici, dice, ah, là ci sono i ghoul, arrivano gli aerei, bombardano il paese, fine, questa è la storia, andiamo alla storia successiva, episodio successivo si intitola il succhia anime, di che parla il succhia anime? della stessa, identica cosa dell'episodio precedente, uguale, solo che a posto del ghoul c'è Dracula, uguale, c'è un gruppo di soldati che arriva in un posto, viene massacrato tutti, uno di loro si salva, arriva e riesca ad ammazzarlo, uguale, cioè veramente è una cosa incredibile, episodio numero 8, la testimone, di cosa parla questo episodio? Loop infinito, è la storia di una che guarda la finestra, vede un omicidio, allora scappa, cerca di dare allarme, viene inseguito dall'assassino, poi a un certo punto si difende questo assassino, l'ammazza e si scopre nella finestra di fronte che c'è quello che prima era l'assassino che guarda l'omicidio e ricomincia così. Per carità, cioè, ripeto, l'idea di base è anche carina, però per tutta la puntata si vedono questi che corrono, non c'è mai un approfondimento, a me non me ne frega niente di sti due, possono morire, non me ne frega un cazzo di sti due stronzi che si inseguono al loop eterno, cazzo, belli sta, a me non ho trovato il modo di passarsi tempo, cioè, veramente una cosa incredibile, ma chi se ne frega, per carità l'episodio è fatto bene, le inquadrature sono belle, la regia è bella, il doppiaggio è tutto, tutto bellissimo, ma inutile, impalpabile, poi abbiamo tutte meccanizzate, cosa c'è di particolare in questo racconto? niente, è la storia di un gruppo di persone che abita su un pianeta infestato da alieni dove ogni tanto, siccome gli alieni si risvegliano e vengono a romperti le palle, tu devi salire sulle tute meccanizzate e difenderti, fine, questo è quanto, poi, che è raccontato con una pseudo-suspense dove sembra che questi sono sulla Terra ma non sono sulla Terra, dove sembra che questi alieni non si sa chi sono ma loro sanno chi sono, insomma, perché entra anche lì l'effetto wow, cioè, è tutto puntato sulla sorpresa del fatto che tu sei convinto che tutta sta storia sia ambientata sulla Terra e chissà questi alieni che sono da dove vengono e invece poi si scopre che siamo noi che siamo andati a romperci noi i coglioni agli alieni ma infatti io mi chiedo ma che cazzo ti fa una fattoria su un pianeta così? Un pianeta ogni 5 minuti spuntano alieni e ti viene a rompere le palle ma vattene da un'altra parte ma non c'erano altri pianeti e abbiamo superato la metà siamo all'episodio numero 10 che si intitola Buona Caccia di che parla sta cosa? di un sacco di roba parò parte dalla Cina imperiale con questo uno spirito che si trasforma in volpe che però poi nel futuro c'è la tecnologia si creano gli androidi allora quello comincia a impiantare il corpo negli androidi però poi quella va a fare la prostituta un sacco di carne al fuoco un sacco di roba inutile ed è un peccato perché anche lì le idee ci sarebbero le situazioni ci sarebbero la bravura c'è perché si vede che sono bravi gli animatori sono bravi tutti ma poi alla fine la storia si basa sul nulla ve la faccio breve è la storia di una che è una creatura magica e per una serie dei venti alla fine ha un corpo pionico e diventa un supereroe fine episodio numero 11 uguale al precedente un sacco di carne al fuoco è la storia di questo che c'ha sto deposito di rifiuti che però poi gli viene uno lo deve spropriare allora lui gli racconta una storia spiegone enorme alla fine dello spiegone il mostro dello spiegone si mangia all'agente governativo è la storia di uno che fa mangiare dal suo cane l'agente delle tasse uguale ma vi rendete conto ma che storia è ma anche lì non importano le idee non è quello perché non è che per forza devono essere idee incredibili trame incredibili cose complicate ma è come la sviluppi ma se a me non me ne frega niente di questi personaggi se tu mi passi tre quarti della puntata a farmi lo spiegone ma a me poi che me ne frega di quello che mi racconti non c'è un McGuffin non c'è una presa emotiva non c'è empatia non c'è niente il golem di rifiuti che si mangia sto poveraccio che faceva solo il suo lavoro fine episodio numero 12 muta forma anche qui una cosa assolutamente impalpabile ci sono i licantropi che esistono evidentemente sono stati assunti dall'esercito e fanno i licantropi cioè quando si va in battaglia allora si trasformano e combattono dall'altra parte anche loro si scontrano anche di là c'è un licantropo questi licantropi si scannano uno dei due muore e l'altro mosso a compassione visto che ha ammazzato uno della sua razza lo prende e lo sorprendisce la notte dei pesci cosa succede? niente ci sono due che restano a piedi in mezzo al deserto si addormentano fanno un sogno e vengono mangiati dagli squali l'idea è stupida ma l'occasione per raccontare qualcosa di interessante c'era non è stata sfruttata non vengono mai sfruttate le idee belle o brutte che siano non vengono mai sfruttate ma la vera chicca arriva adesso con l'episodio numero 14 che si intitola dare una mano signori questo è l'episodio veramente peggiore di tutta la stagione e forse di tutta la serie di Love, Death and Robert perché è veramente una stupidaggine galattica allora perché è particolarmente interessante questo episodio prima di tutto perché in questo episodio di Love, Death and Robert non c'è Love non c'è Death e non ci sono manco dei robot niente non c'è in questo episodio non ha senso una donna astronauta che è una cretina una deficiente è deficiente tanto quanto la protagonista di Gravity se la gioca con Sandra Bullock non si capisce bene che è più stupida delle due ma il livello è quello pregente qual è la storia è la storia di sta deficiente che esce per fare una camminata nello spazio senza una fune di vincolo ma chi è che esce nello spazio senza attaccarsi all'astronave e che fa il telescopio è lì basta che mi faccia un saltino la chiappo madonna mia ma chi è che esce nello spazio senza sicurezza poi è da sola ma chi dice c'è un altro che magari se sbaglio ad acchiapparmi questo è scemina a salvare quindi lei è da sola nello spazio in assenza di gravità si lancia sgarra ad acchiappare sto telescopio e pregente piano piano si va allontrando e muore una cosa di muore perché hanno voluto fare questa stupidaggine semplicemente per parlare del terzo principio della termodinamica cioè che ogni volta che fai un'azione all'azione corrisponde a una reazione quindi semplicissimo infatti lei che sta per che sta per morire cosa fa per ritornare indietro non avendo dove aggrapparsi stendendo lo spazio si toglie il guanto e lo lancia allora tu lanciando il guanto giustamente ricevi una pressione uguale alla massa della quantità di moto del guanto che si allontana quindi in qualche modo torni poi non ci arriva comunque perché è ancora poco allora siccome la mano nello spazio si congela si stacca pure la mano tira pure la mano e gli da quell'ulteriore spinta per cui riesce a salvarsi quando torna la navicella quella che gli dice è tutto a posto ti serve una mano ti serve una mano che salva tutta la puntata no la devono licenziare in tronco senza pagargli l'assicurazione perché solo una deficiente può fare una cosa del genere se ne deve andare a casa povera e licenziata perché una cretina non si merita manco i soldi dell'assicurazione una così si prenderà l'invalidità di cerebrale perché è veramente idiota episodio numero 15 alternative storiche di che parla questo episodio di niente niente proprio niente potete saltarlo tranquillamente perché questo episodio è un what if un what if cioè che cosa sarebbe successo se ok cosa sarebbe successo se in questo caso se Hitler avessi vinto la guerra mi pare è perché basandosi sull'idea di un tizio che ha fatto un software che simula la realtà eccetera per capire cosa succede ma è una stupidaggia è un what if e a me what if mi fanno schifo mi danno fastidio perché a me che mi interessa certo se tu usi il what if per raccontarmi qualcosa di profondo di psicologico di emotivo qualcosa che mi fa crescere qualcosa che mi insegna qualcosa invece no qua sono solo storie facciamo sei addirittura what if sarebbe andata o così 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 o così oh vabbè ok e poi l'episodio finisce con ok chiediamo un altro what if e qual è aspetta controllo ah l'ultima domanda che fa prima della chiusura dell'episodio è cosa sarebbe successo se lincoln avesse sparato per primo punto quindi ci immaginiamo un sequel di questo episodio dove ci sono altre sei storie a cavolo di lincoln che sopravvive o comunque che spara per primo fine ma perché devo sprecare tempo della mia vita a vedere una cosa inutile puro intrattenimento solo perché ci sono immagini che si muovono non mi insegna niente non c'è pathos non c'è emotività non c'è può esserci un po' di stupore sempre il discorso dell'effetto wow perché vedi qualcosa di immaginifico vedi delle cose strane però più di tanto ma perché veramente cioè anche questa potrebbe essere utilizzata meglio come idea buttata lì senza alcun motivo assolutamente episodio numero 16 abbiamo quasi finito mancano gli ultimi tre altro episodio inutile questo episodio si intitola dolci 13 anni ed è sostanzialmente è la storia di un'astronave che in qualche modo si pensa che sia maledetta perché tutti quelli che ci fanno prima o poi gli succede qualcosa muoiono è un'astronave strana fino a quando non c'è una tizia invece che gli va benissimo perché la disaffeziona l'astronave le vuole bene la tratta bene e questa astronave con lei invece va benissimo alla fine dell'episodio che si scopre che c'è un'intelligenza artificiale che siccome si sentiva trattata bene da questa non l'ammazzava tutto qua io non so veramente che dire di questa puntata perché se volete entro nel dettaglio cosa succede il tempo quanto tempo stanno assieme quante missioni fanno cosa succede alla fine come si capisce con l'intelligenza artificiale ma chi se ne frega chi se ne frega viste che stupidaggini penultimo episodio punto cieco e questo è veramente un'idiozia cioè un pelino sopra all'episodio 14 quello dell'astronauta che lancia la mano cioè questo è veramente quasi quasi a quel livello qual è la storia è la storia di un gruppo di robot che vanno a fare una rapina durante questa rapina vengono praticamente massacrati tutti e il più giovane più giovane di questi robot quando muore è tristissimo perché sta morendo però poi alla fine si scopre che il capo prima di mandarlo in missione gli fa sempre il backup di memoria quindi lo resuscita e lo prende pure in giro gli fa eh la prima volta è sempre così ci si rimane male ma che storia è ma che storia è cioè veramente ma ma a parte che ma io come faccio a empatizzare con dei robot ladri fuori controllo che vanno a fare scorribbante già è difficile ma io lo do per scontato che un robot essendo una macchina elettronica gli puoi fare il backup ma poi il robot che teme di morire ma dai ma come si fa cioè ci sono tante di quelle cose sbagliate in questa storia ma non sbagliate perché la storia che è sbagliata per carità andrebbe anche bene ma raccontamela bene fammi empatizzare con sto robot cioè quando muore terminator 2 quando muore il t800 in terminator 2 ma tutti piangiamo a vedere quel cazzo di montagna di acciaio che si squaglia nella lava tutti piangiamo perché perché tu a quel punto veramente hai trovato dell'umanità dell'empatia in quel robot ti sei affezionato invece qua che è una stupidaggine e poi ci fai pure la battutina tutti piangono all'inizio ma tutti piangono pure io piango ma come si fa a non piangere vedendo una stronzata di questo tipo cioè alla fine di sta serie quantomeno di questa prima stagione poi vediamo se faremo anche le recensioni delle stagioni successive ma alla fine di sta stagione quello che mi chiedo è ma io perché ho buttato parte della mia vita che non mi tornerà mai più indietro per vedere per vedere sta cosa è l'unico motivo che penso è per poter fare questo video e sfogarmi così almeno io da questo video provo piacere perché mi sfogo comunico la mia incazzatura al mondo e sto bene e allora è valsa la pena mi sembra proprio come il discorso di John Travolta in Pulp Fiction quando dice vedi uno si fa rigare la macchina almeno lo trovasse a quello che gli ha rigato la macchina cioè se io lo trovo quello che mi riga la macchina almeno gli sparo e sto bene invece così no e beh è così perché veramente è una cosa orrenda orrenda e va bene i gusti sono gusti per carità i gusti sono gusti ognuno gli piace quello che vuole io non la metto in dubbio però però ci sono ci sono il fatto di basare tutto sull'effetto wow può andar bene una volta due volte ma ogni puntata così ogni puntata si arriva alla fine della puntata per poterti fare per poterti far fare per poter suscitare uno spettatore questo e basta comunque chiudiamo con l'ultima puntata l'ultima puntata la numero 18 si intitola Zima Blue o Zima Blue ed effettivamente questa è la puntata migliore di tutta la stagione è vero Zima Blue è bello questo è bello bello è un parolone è la meno peggio è la meno peggio perché parla di quest'artista che diventa famoso perché fa sti murales in ogni murales mette un quadratino blu e lui c'ha questo blu che ritorna torna e ritorna alla fine a un certo punto si fa mettere dentro un corpo artificiale per poter andare nello spazio e dipingere di blu gli asteroidi è una cosa che ha dell'artistico è onirico è raccontata bene almeno questa puntata anche se l'idea di base è stupidella perché c'è però almeno è raccontata bene infatti qua c'è qualcosa in più è raccontata meglio ma l'idea di base alla fine è qualcosa dunque di sciocchino qual è questa idea? l'idea di base è che c'è questo artista che in realtà si capisce alla fine che non era umano nemmeno all'inizio lui all'inizio era un robottino di quei robottini che si usano per pulire la piscina un po' come il rumba a casa ok era sapete il robottino aspirapolveri solo che la sua padrona si era affezionata a questo robottino gli aveva impiantato degli elementi di intelligenza artificiale e questo aveva cominciato a evolversi semplice la storia è carina però poteva anche lì esserci un qualcosina di più qual è l'implicazione etica morale già questa cosa oggi ce l'abbiamo già oggi ci sono le intelligenze artificiali e sono molto più avanti di quanto immaginate vi racconto una storia che vi stupirà è la storia di un tizio che ha impiantato un'intelligenza artificiale dentro un forno a microonde e il forno a microonde ha tentato di ucciderlo ok adesso vi spiego la storia è molto semplice c'è questo tizio che da piccolo viveva da solo era un tipo solitario e come amico immaginario si era fatto un forno a microonde lui con questo forno a microonde ci parlava ci discuteva però quel forno non rispondeva giustamente allora lui da adulto che ha fatto ha comprato un forno a microonde uguale a quello ci ha impiantato nel forno a microonde un'intelligenza artificiale e gli ha dato la personalità questa intelligenza artificiale che lui aveva dato al forno a microonde di quando era piccolo in particolare era un gentleman inglese sopravvissuto alla prima guerra mondiale questa impostazione psicologica parliamo di psicologia con l'intelligenza artificiale però evidentemente pensate quanto siamo avanti questa impostazione psicologica ha creato nell'intelligenza artificiale dello stress tant'è che a un certo punto nel parlare l'intelligenza artificiale col suo creatore a un certo punto l'intelligenza artificiale ha chiesto al suo creatore di entrare dentro di lui ok il forno a microonde non ha la percezione del fatto che è piccolo e il creatore non può entrare nel forno allora lui lui che gli ha detto il creatore ha detto al forno ha detto ok ok entro dentro di te lui ha aperto la porta e l'ha richiusa simulando così di essere entrato al suo interno e il forno a microonde si è acceso si è acceso a foto uccidendo il suo il suo padrone secondo lui questo non vuol dire dobbiamo avere paura dei forni a microonde questo vuol dire dobbiamo avere paura dei deficienti che programmano male i forni a microonde e quindi in caso le intelligenze artificiali che poi devono gestire noi questo per dirvi cosa come vedete è più interessante la storia del forno a microonde rispetto a sto coglione che si mette a trittare di blu la roba per carità bella bella la storia coinvolgente ma è più interessante la storia del microonde vi rendete conto vabbè comunque con questo abbiamo finito allora io vi ringrazio di avermi ascoltato fin qua spero se vi interessa che faremo anche la seconda e poi la terza stagione di love death and robot dove le cose possono solo che peggiorare e vi invito nuovamente a mettere like al video se vi è piaciuto a iscrivervi al canale così ci date un sostegno a condividere tutte queste cose che danno un grande sostegno alla nostra attività anche perché io se vedo che c'è un feedback mi viene voglia di fare la roba se no mi scoccia poi non faccio più niente dopodiché vi invito ancora una volta a visitare il sito www.legagiochi.it perché in questo periodo ci sono gli sconti dal 40 al 60% e magari pacchiappate qualcosa di interessante tipo il power deck che è praticamente una mini ludoteca tascabile che potete portare sempre con voi soprattutto in questo periodo natalizio dove siete sempre invitati a casa dei parenti che poi vi costringono a giocare a giochi orribili almeno così gli proponete qualcosa di bello e ne uscite puliti e ne uscite puliti anche nel caso vogliate fare un regalo perché il power deck costa pochissimo e fate un regalo utile e che resterà per un sacco di tempo all'amico a cui l'avete regalato quindi con questo vi ringrazio vi mando un bacio e spero che ci si riveda presto ciao